Allora andiamo avanti, ha chiesto ora di intervenire la deputata Fabiana Dadone, prego. Grazie Presidente. Gentile Presidente, colleghi deputati, Ministro per le riforme costituzionali. Rinferschiamoci la memoria dopo il rientro dalle ferie. Di che cosa tratta il DDL 1359? Cito attestualmente il professore Alessandro Pace, che abbiamo sentito anche in audizione. Si tratta di una vera e propria, illegittima disapplicazione dell'articolo 138, allo scopo di effettuare delle modifiche alla Costituzione senza il doveroso rispetto di tale norma. Ma come si fa a proporre una deroga dell'articolo 138? La norma è quella che di fatto garantisce la nostra Carta Costituzionale, il muro di contenimento dall'arbitro del potere politico, specialmente quello delle maggioranze di governo. La rigidità della nostra Costituzione è cosa buona e giusta. Giova ricordare che fu proprio la flessibilità dello Statuto Albertino a consentire il passaggio alla dittatura per mezzi legali. Attraverso leggi approvate dalla maggioranza delle Camere, Mussolini poté travolgere il labile Stato liberale ed instaurare il regime fascista. Questo tentativo di aggirare il procedimento dell'articolo 138 è ad opinione, non certo di mia zia Olga, ma di professore di diritto costituzionale, quali Pace, Manetti, Sorrentino, Zagrebeschi, solo per citarne alcuni, è costituzionalmente illegittimo, in quanto violerebbe dei principi fondamentali che sono sottratti allo stesso potere parlamentare di revisione costituzionale, per cui come si fa a dire che sia costituzionale? L'attuale DDL configura di fatto una procedura straordinaria e derogatoria del testo costituzionale, sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello degli organi deputati a modificare la Costituzione repubblicana. I profili di legittimità del provvedimento in esame sono molteplici e riguardano non solo le leggi costituzionali, ma anche i principi e le norme procedurali disposte dai regolamenti parlamentari. L'organismo abilitato per la riforma costituzionale è uno e uno soltanto, ed è scritto nella carta medesima, è il Parlamento repubblicano, e questo dovrebbe avvenire nelle sedi consone, ovvero sia l'affare costituzionale di Camera e Senato. Con questo DDL invece che cosa capita? Che viene investito un comitato di 40 tra deputati e senatori, e la domanda che ci poniamo è che cosa dovrebbero fare nel frattempo gli altri deputati della Commissione Affari Costituzionali di Camera e Senato. Che dire poi del cronoprogramma dei lavori, che oltre a comprimere il tempo dei lavori, che di fatto dovrebbero concludersi in 18 mesi, per cui alla faccia dei tempi lunghi, riduce il termine di tre mesi tra la prima e la seconda lettura a 45 giorni, escludendo il senso voluto dei padri costituenti, ovvero sì avere un tempo per riflettere su delle manovre di tipo costituzionale. Tempo per riflettere. No, qua si dice no grazie al tempo per riflettere, perché ci sono 69 articoli della Costituzione da modificare su 139, derogando il 138esimo. Qui bisogna aprire di fatto una fase costituente, con un Parlamento eletto, con una legge di dubbia costituzionalità, con i tempi d'aula addirittura contingentati, dopo due ore e 25 di discussione in Commissione, dopo l'audizione di numerosi costituzionalisti che si sono permessi di rilevare dei profili di incostituzionalità e dopo addirittura delle proposte pervenute da alcuni onorevoli colleghi di filtrare le opinioni di questi ultimi quando non ci fanno comodo. Complimenti. La ringrazio.